Grazie a tutti. In modo tale che la sicura non possa in nessun modo scacciarsi dall'opneumatico. Terminate la procedura facendo passare l'elastico di sicurezza negli appositi cancetti inclusi nel kit per tendere ulteriormente il sistema e far sì che aderisca completamente a battistrata. Nel sacchetto avete le 8 fasce a testa da liete con speciale di vestimento in nylon, 4 per ogni ruota matrice, 2 cinghie elastiche e libretto di istruzione. Come potete vedere è ideale anche per vetture che non possono montare le classiche catene da liete e che necessitano di modelli particolari e solitamente molto costosi e per automobili con cerchi in lega. Dunque, basta far passare la fascia all'interno della scuola, posizionando la città con il materiale. Poi fate rilassare la città della cinghia prima all'ingrante di vestimento, poi nella tessura della placcia a testa da liete. Poi fate rilassare la capacità all'interno della scuola, se pate rilassare la capacità di usare le classiche catene da ricette e la scuola. Mettiamo un'altra scuola che un'altra scuola che un'altra scuola che ha aggiungato nella scuola che, Grazie. 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 Pronto? 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 Chi è? Dai, mi è così te. Smettila di fare il cugliore. Sto idiota. Pronto? Pronto? Curete il cerchio? Assicurarla all'opneumatico è un gioco da ragazzi. Basta far passare la cinghia nell'apposito spazio e serrare la sicura. Per effettuare questo passaggio non resta da l'altro che inserirla all'interno della stessa tessura nel verso opposto, in modo tale che la sicura non possa in nessun modo scacciarsi dall'opneumatico. Terminate la procedura facendo passare l'elastico. 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 Chiamata in arrivo dal numero privato. O questa, o questa. Risolverete il problema in pochi atti. Appena è tempo di applicare una sola catena allo pneumatico. E devo dire, meno di un minuto. Non importa che mezzo utilizziate, Safe2Go è realizzata per adattarsi al vostro cerchio senza alcuna difficoltà. Dall'utilitaria ai veicoli commerciali, alle automobili con pneumatici particolari e non catenabili. Safe2Go è il sistema per l'aderenza degli pneumatici più versatili al mondo. Vi protegge la guida e vi protegge la guida. Grazie. 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 Grazie.